Civil Week 2024, un altro quartiere di Milano, un altro municipio, qui siamo nel municipio 6, quartiere Sant'Ambrogio, biblioteca Sant'Ambrogio e ho il piacere di essere qui con Susanna, bibliotecaria, Emanuela, bibliotecaria, Elena, presidente del comitato, salviamo Cascina Monterobbio. E allora, tanti gli appuntamenti che vengono qui appunto alla biblioteca per questa Civil Week, fra poco ne inizia uno, poi più tardi avremo anche nell'uncinetto, ma ti parleremo anche in un altro collegamento. Diteci un po' appunto, Civil Week avete pensato di mettere all'interno di questa struttura alcuni eventi, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un evento che vuole proprio porre l'attenzione su un bene comune e sulla partecipazione dei cittadini alla possibilità di preservare, valorizzare e prendersi cura di questo bene comune. Quindi l'importanza della cittadinanza attiva. Attiva, infatti. E questo bene comune qual è? Questo bene comune è Cascina Monterobbio, un manufatto che risale al 1500, ha delle opere anche probabilmente attribuibili ad Aiez nelle sue stanze, però questo è tutto da scoprire. E ha due cortili, è un manufatto parecchio interessante per poterci fare delle cose utili per la città e per il quartiere. Mi vuole dire che sono queste foto che vediamo alle sue spalle? Che cosa raffigurano? Cosa vediamo? Allora, noi vediamo all'inizio, sono panoramiche viste o dall'alto o da lontano e si vede un po' l'impianto della Cascina. Poi man mano si entra... Cascina che diciamo bene si chiama Cascina? Monterobbio, che significa da quercia, giusto? Ah, c'è la robbia. Mi insegna, perché probabilmente una volta c'era un bosco di querce. E dove si trova precisamente? Ma si trova in via San Paolino, sempre la stessa via della biblioteca. Vicini di casa? Qua vicinissimo, sì sì, siamo venuti qua, ci hanno ospitato qua proprio perché... Com'è questo luogo e cosa vorrebbe diventare invece? Al momento è abbastanza disastrato, lo potete vedere anche alle nostre spalle, ci sono dei buchi nel tetto e quando piove poi si rovina tutto, anche le stanze sottostanti. Occorrono parecchi soldi per rimetterlo a posto, per cui si tratterà di capire come fare a interessare qualche investitore, perché ci vogliono milioni insomma. Beh insomma, però diciamo che Milano ha storie che potrebbero portare fortuna, no? No, noi speriamo che Milano... Altre cascine ce l'hanno fatta. Altre cascine ce l'hanno fatta, noi abbiamo fatto anche un lavoro con il quartiere, con le associazioni, proprio un workshop da cui sono venuti fuori delle linee guida che il municipio 6 ha assunto, perché le ha considerate interessanti, in una delibera addirittura, Dopo però da lì all'attuazione... Ma come ho detto, rafferrò. Sì. Infatti, ma la cosa interessante è che non è che si parla solo di cascina perché ci piace il rustico, come dire, ma perché invece è legato fortemente al territorio. Al territorio, alle tradizioni contadine. Il quartiere Sant'Ambrogio sorge su quello che erano i terreni agricoli della cascina. Negli anni 50 sono stati tolti alla cascina e dati. Però rimane il fatto che questa cascina è alle porte del Parco Sud, quindi potrebbe essere proprio avere questa doppia funzionalità di apertura verso il Parco Sud e dall'altra parte, spalle, ma vicino alla città, e potrebbe diventare anche un centro di ricerca. Insomma, le idee sono tante in proposito. Chiarissimo. E allora andiamo avanti però raccontando quello che succede in un luogo come questo, sempre qui alla Civil Week 2024. Grazie.